con il semaforo rosso non si può passare ehi ma che fai? sta attento no? eh deve imparare a fare più attenzione ci vogliono più ragnatele eh guarda quante ne ho fatte ma mi sono finite l'unica persona che può aiutarmi è il dottor Iron Man per la tua armatura serve un trattamento speciale prova a muoverlo adesso il braccio eh adesso è molto meglio oh grazie dottor O tornerò sicuramente per un'altra visita ciao Iron Man torna presto dottor O ho un problema ho finito le mie ragnatele ah Spiderman mi sembra tanto strano diamo una controllata a una prima occhiata mi sembra tutto normale proviamo con una risonanza magnetica oh ma ho paura ah Spiderman non c'è niente di cui aver paura dai il cervello è a posto i polmoni anche non capisco quale sia il problema ah ho capito bisogna semplicemente riempirlo eh per fare un pieno ci vuole la benzina ah no Spiderman ci vogliono dei componenti appositi secondo te quali colori preferisce Spiderman? beh naturalmente rosso e blu perfetto posso farti delle ragnatele su misura ok mettiamo la dose giusta senza esagerare ok mettiamo la dose giusta senza esagerare oh ma ma ha cominciato a bollire oh oh e non è pericoloso? oh 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 Spiderman oh oh mi sento molto più forte ma di ragnatele ancora niente certo Spiderman devo ancora riempirlo cerchiamo la giusta dose Spiderman prova un po' adesso wow Spiderman non avrai esagerato? eh scusami dottor oh ma grazie per avermi aiutato Spiderman e non dimenticare che ti serve energia quindi mangia bene eh Thanos volevi qualcosa? oh scusa ero un po' sovra pensiero ma che è successo al tuo guanto? ah è solo sporco eh allora fammi dare una bella pulita oh grazie posso tornare a schioccare le dita Thanos no no fermati ci vediamo col dottor oh nel prossimo video ciao